Ci tenevamo a dare un carattere internazionale a questa giornata, non solo perché è in concomitanza con quella mondiale, ma perché siamo al momento iniziale di un processo globale di rafforzamento delle statistiche. Mi è piaciuto molto che siamo riusciti a coinvolgere l'ambasciatore Sacco, che ha portato una testimonianza dell'impegno che abbiamo a livello istituzionale in questo processo. Quindi un evento in cui abbiamo voluto sottolineare la nostra appartenenza non solo al sistema statistico europeo, ma a un processo globale che vede una grossa domanda di miglioramento dell'informazione statistica per il pianeta. Grazie a tutti.